Per sconfiggere un nemico bisogna prima conoscerlo, vale anche per la povertà. La Caritas ci sta provando con Rifondiamoci. Cosa avviene fuori? Quanto è diffuso? Allora, dai nostri dati abbiamo due tipi di povertà. Una povertà che resenta la miseria, l'accattonaggio e che riguarda i poveri storici perché non riescono a uscire fuori da quel tipo di povertà. La seconda povertà riguarda i nuovi poveri che sono coloro i quali si sono ritrovati a 50 anni o a 40 anni senza lavoro e non riescono a arrivare neanche al 15 del mese perché hanno mutui da pagare. Ringraziando il Signore ancora ci sono le famiglie con i genitori che riescono un po' a sostenerli. Ma ci accorgiamo che la povertà è molto diffusa e insiste in particolare su due fronti della città di Siracusa che è via Italia o zona via Italia e la Mazzarrona, ma non disprezzando neanche la zona di Grotta Santa e Santa Panagia e Ortigia, i quartieri Graziella e Giudecca. Che iniziative si possono mettere in campo ad esempio come Caritas? Come Caritas la continuazione del progetto Rifondiamoci che chiude come progetto perché i progetti sono annuali per Caritas italiana ma che non termina come progetto perché sarà sostenuto dalla diocesi di Siracusa e quindi un sostegno al reddito dei nostri poveri con pagamento di utenze tante volte, con forniture di medicinali, con sostegno alle ludopatie, con sostegno anche alle disabilità. E il resto della città cosa fa? Lo vede il problema? Credo che ci sia attualmente perché non è la Caritas come Caritas di Ocesana ma la Caritas insieme con 14 parrocchie di Siracusa che si occupa del fenomeno della povertà e quindi 14 parrocchie che insistono a Siracusa significa che tre quarti della città di Siracusa sa che ci sono i poveri e conosce i poveri e sta iniziando a muoversi in maniera diversa.